Qui ci troviamo di fronte ad un problema nato tra un cittadino italiano di Sala Consilina e una cittadina rumena. In questa coppia c'era l'amore, c'era una convivenza qui in Italia e nacque nel 2007 un figlio. Poi successivamente la madre del bambino è voluta tornare in Romania perché voleva andare a trovare i suoi genitori. Anche il padre ha seguito questa signora in Romania e avevano avuto un figlio, un figlio che aveva qualche mese di vita, aveva 7-8 mesi di vita quando è stato portato in Romania e successivamente purtroppo in Romania è successo quello che non dovrebbe mai succedere, cioè che il padre è stato picchiato, è stato mandato via dalla Romania in malo modo e quindi purtroppo è dovuto tornare in Italia e da quel momento, dal 2007 non può vedere più suo figlio e ha solo notizie sporadiche e non che richieste di soldi. Dobbiamo tenere presente che in Italia ci sono più di 1500 casi in cui uno dei due genitori a cui viene sottratto il figlio purtroppo non segue le strade giuridiche legali per poter rientrare nella possibilità di essere padre, quindi della patria potestà. Questo era uno di questi, cioè in sostanza il padre si era attivato inizialmente con una denuncia però presentata presso il Tribunale dei Minori, quindi il Tribunale dei Minori aveva comunicato di non poter seguire il caso perché non era competenza del Tribunale dei Minori, infatti la sottrazione internazionale è un reato che riguarda la madre, non il bambino. Successivamente il padre rispetto a questa non luogo a procedere in sostanza del Tribunale dei Minori aveva riposto le armi e solo successivamente, sendendo anche dai media della zona la storia anche che abbiamo seguito relativa al Solimo, ha capito che aveva la possibilità di riabbarciare il figlio. Ma la straordinarietà di questa cosa è che il padre praticamente ha ricevuto da un Tribunale rumeno la richiesta di alimenti per il figlio, cioè la madre nonostante non faccia vedere il figlio da anni ormai al padre è riuscita anche a richiedere degli alimenti alimenti per il sostentamento del figlio. Cosa assurda è che adesso stiamo seguendo per cercare di trovare almeno una soluzione nella quale il padre possa sì dare gli alimenti al figlio come è giusto che sia, ma soprattutto che il padre abbia anche la possibilità di fare il padre, cioè di far ritornare questo figlio almeno in Italia oppure di avere il diritto divisi da lì in Romania.